Ciao a tutti amici di Cinematograph, scusatemi ma sono ancora leggermente emozionata perché sono appena uscita dall'anteprima del film La La Land e è un ballo, questo film è un ballo che ti trasporta nel cielo insieme alle stelle e questo ballo è guidato da due protagonisti sensibili e genuini fantastici che sono Ryan Gosling ed Emma Stone, un film premiato con 7 Golden Globe su 7 nomination quest'anno e Damien Cesella è riuscito a portare un musical al cinema che sicuramente richiamerà tantissimo pubblico questo perché? Perché pur richiamando non soltanto il musical del passato, ci sono tantissimi richiami, tantissimi accenni con questo film si richiama proprio il cinema, il vero cinema già dall'inizio con quella scritta enorme e colorata in Technicolor con su scritto Cinema Scope e tu senti già quell'atmosfera di quei film passati ma la capacità del regista è stata quella di rendere in chiave contemporanea questo musical La La Land e far così sentire un'emozione, un sentimento attuale, contemporaneo pur richiamando queste atmosfere che da sempre hanno emozionato e hanno riempito il cuore di tantissimi spettatori perché ricordiamo che nel tempo sono stati soprattutto il musical e soprattutto i western a richiamare tantissimo pubblico nel cinema e quindi anche questa volta penso che questo film riuscirà a chiamare una gran fetta di pubblico io sono ancora emozionata e penso che continuerò a cantare per giorni, per mesi, per anni la colonna sonora che sicuramente risentiremo agli Oscar e questo è il mio febbricitante commento, vorrei ballare il tip tap, ho sempre sognato di ballare il tip tap, a dire la verità e forse dopo questo film inizierò, chissà, forse anche voi comunque restate su Cinematografia per recensioni e articoli e noi ci vediamo alla prossima diretta ciao! Grazie a tutti!